A me piace giocare con una difesa a tre, mantenere comunque l'assetto della difesa a tre, ma non è detto che non si possa cambiare. Provare a cambiare qualcosina in mezzo al campo, ora vediamo se passare con un certo campo a quattro o a tre comunque e tenere l'ossatura comunque davanti di tre attaccanti con una punta e due sottopunte. Adesso vediamo, io penso che a volte i sistemi di gioco sono dei numeri, si può difendere una maniera, attaccare un'altra e viceversa. Quindi su quello non sono molto integralista, siamo pronti a cambiare e siamo pronti a fare il bene del mondo. Per me Gasperini è un maestro, è stato un mio maestro sin dai tempi della primavera della Juventus, poi l'ho seguito al Genoa, quindi con lui sono riuscito dal giocatore ad arrivare in nazionale e mi ha insegnato davvero il modo di stare in campo e mi ha insegnato calcio. Ovviamente per me è stato un maestro, oltre a lui ho avuto bravissimi allenatori, non solo Juric, ma Ranieri, Lippi, Donadoni, Deschamps, quindi ho avuto dei maestri davvero molto bravi.